Buongiorno amici e buona vigilia della Santa Pasqua. Oggi Cotto e Mangiato ci ha inviato questa bellissima pizza di grano, gigantesca, e la voglio dividere con tutti voi. Quindi, se volete un pezzo di pizza di grano, telefonate al numero sovraimpressione, come vedete, e contattateci, ve la spiederemo a casa. Arrivederci. Ti sono piaciuti i nostri sketch? Ricordati che puoi vedere tanti altri sketch di Trick Croc e Cocò sulla pagina di YouTube. Attiva la campanella per essere sempre aggiornati. E ricordati, siamo su Instagram e Facebook. Grazie e condividi!